In questo solco si colloca un singolare aeroplano sperimentale, l'innovativo prototipo ideato ai primi degli anni 30 dall'ingegner Luigi Stipa e costruito dalle officine Caproni. Con questo aeroplano, la cui inusuale conformazione e l'apparente semplicità dichiarano subito la natura sperimentale, si apre la strada verso la realizzazione del propulsore a getto. Il prototipo, quasi interamente in legno, volò per la prima volta nel 1932. La sua ampia e tozza fusoliera conteneva un motore ad elica. Era il fondamento dei moderni avioggetti, rispetto ai quali questa ala a turbina, come lo definì lo stesso progettista, costituisce un illustre precursore. L'idea originale era quella di un motore intubato. Il flusso d'aria, generato dalle eliche e riscaldato dal propulsore, veniva compresso nel condotto metallico della fusoliera, generando un forte getto di uscita che produceva la spinta. Il principio era molto prossimo a quello del motore a reazione e l'idea era geniale, ma nonostante questo lo sviluppo non ebbe seguito. Il flusso d'aria, generato di uscita di uscita di uscita di uscita di uscita di uscita. Il flusso d'aria, generato di uscita di uscita di uscita di uscita di uscita di uscita di uscita.